L'eredità di Fiorello è enorme. Penso che sia stato il miglior sindaco che New York abbia mai avuto. Tutti i sindaci che sono venuti dopo di lui sanno chi è. Ed essendo il sindaco del popolo, perché metteva d'accordo diversi gruppi etnici, fu anche il modello per i successori. Per questo fu un grande sindaco e un grande politico. Incorruttibile. Un uomo onesto. Non prese mai soldi per sé. E quando morì aveva solo 8000 dollari. Tutto qui. Quando fu eletto sindaco di New York si decurtò lo stipendio della metà e non ebbe mai tesoretti nascosti. Quando vengono le scolaresche in gita dicono oh Fiorello, quello dell'aeroporto. Ed è così che i ragazzini lo ricordano ancora oggi. Ma tutti gli altri lo ricordano come il più grande sindaco di New York. La guardia era buona vita italiana. Era posendo era. Mi chiamavano Little Flower. Fiorella. Era tough. Very tough. I cosa si facevano. Non c'era a pazzia con la guardia. Non come oggi. No corruption.